È stato accolto abbastanza bene perché comunque era una partita difficile in un campo al limite della praticabilità, quindi la squadra è stata agguerrita, è normale che la qualità del gioco è stata scarsa ma è normale che sia un campo del genere, quindi sono contento perché ho visto una squadra che ha fatto battaglia e che non è proprio una delle nostre caratteristiche migliori, quindi ho visto gente che magari oggi ha tirato fuori la sciabola e quindi mi è piaciuta questa cosa. Volevamo fare la nostra partita come siamo abituati a fare, con un palla a terra cercando di dare qualità alla manovra ma oggi non c'era possibilità e siamo stati bravi in un attimo a capire com'era la situazione e a medesimarci nella partita. Sono contento che non abbiamo preso gol perché ultimamente non subendo tiri prendiamo gol, quindi era una cosa assurda, però penso che prima o poi il lavoro paga e si è visto. Però è un termo che non riesce a fare gol? Ma non è facile, loro comunque hanno fatto un'ottima partita anche nella fase difensiva e tutte queste palle alte, è normale che un attaccante fa anche più fatica, però io penso che oggi c'era da sottolineare la prova degli attaccanti perché si sono sacrificati tanto su tutte le palle lunghe, hanno fatto la guerra, quindi sono veramente soddisfatto. Dobbiamo continuare a fare delle ottime prestazioni come stiamo facendo e è normale che in casa nostra bisogna vincere come sappiamo fare noi sabato.